Berry Plant vi presenta questa grande opportunità. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Questa proprietà vanta? Cucina elegante con elettrodomestici di qualità completa questa casa. Stravaganti camere da letto con stile e spazio creando un ambiente contemporaneo. Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto. Un ottimo modo per finire la giornata. Sappiate che questa casa si trova in un ottimo luogo, a poca distanza da negozi. Prenotate oggi una visita!